Centinaia di persone che assaggiano un prodotto e lo testano ne evidenziano pregi e difetti per Unicopa e Firenze l'ha provato dai soci che nei giorni scorsi ha visto anche un'originale edizione fuori dai punti vendita, in questo caso a Figline Valdarno dove era in corso autumnia la manifestazione dedicata all'agricoltura e all'ambiente. L'ha provato dai soci è una nostra prerogativa perché è un sistema che abbiamo ideato noi sul prodotto a marchio ed è un modo di far assaggiare ai nostri soci il prodotto a marchio. Ovviamente i nostri soci dovranno darci le loro impressioni, un'impressione di bontà se si parla di prodotti alimentari invece che di funzionalità se si parla di tutta una serie di prodotti. Per noi sono delle indicazioni fondamentali perché praticamente ci funziona da banca dati. Quanto le piace la consistenza di questo prodotto? Da 1 a 9? 9. Questi sono molto buoni, sembra di mangiare cose naturali come dei nostri nonni. Nello scorso fine settimana l'ha provato dei soci e ha interessato gran parte dei punti vendita della cooperativa. Sono 36 i negozi su cui siamo impegnati con questa iniziativa per far partecipare i soci e con la speranza che i soci che assaggiano e quindi i soci assaggiatori siano sempre di più perché noi abbiamo bisogno veramente della loro partecipazione.